Circa 2000 persone sono scese in strada a Bruxelles per far sentire la propria voce contro la politica di Donald Trump. Il presidente americano è atteso nella capitale belga nei prossimi giorni in vista del summit della Nato. Vogliamo la pace e non la guerra, si leggeva su alcuni cartelloni nelle mani dei manifestanti. L'organizzatrice della protesta ci spiega che il leader della Casa Bianca non è il benvenuto perché il suo mondo è quello fatto di odio, dove si favorisce l'industria delle armi, dove non ci si preoccupa dei bambini, dove i piccoli immigranti vengono quasi messi in gabbia. Ecco perché siamo contro la sua politica. In corte è anche una rappresentazione dell'Associazione degli Omosessuali. Uno degli attivisti dice che i suoi discorsi sono sessisti e razzisti. Il corteo pacifico al quale hanno preso parte anche diversi bambini è stato organizzato dall'Associazione Trump Not Welcome, ovvero Trump non è il benvenuto.